Ci sono novità anche per quanto riguarda il PRG? Sì, il piano regolatore generale, ieri siamo andati al Genio Civile ed è uscito al Genio Civile con il parere dello stesso. Praticamente ora di fatto ci fermiamo perché dobbiamo completare l'iter dell'approvazione del PRG con lo studio della VAS. Fortunatamente questo iter lo possiamo fare in corsa, quindi noi già ci siamo recati all'assessore del territorio ambiente per integrare le schede di cui ha bisogno la valutazione ambientale strategica e non appena questo studio verrà completato, naturalmente verrà trasmesso alla Giunta Comunale, quindi al Sindaco, dopodiché lo trasmetteremo al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.